La principessa Eugenie e il principe Harry condividono uno stretto legame, con il cugino del duca che lo sostiene nonostante la spaccatura con il resto della famiglia reale, accendendo la speranza che lei possa essere in grado di aiutare a sanare il divario, Eugenie è diventato il primo membro della famiglia reale a fare una visita pubblica a Harry in California due anni dopo aver lasciato la carica di membro anziano di The Firm. Domenica, sono stati visti partecipare al Super Bowl insieme senza i partner l'uno dell'altro. Si sono seduti in posti premium al Sofi Stadium di Los Angeles, arriva mentre cresce la preoccupazione nel Regno Unito per la biografia di Harry che verrà presto pubblicata. Gli osservatori reali hanno affermato che la presenza di Eugenie mostra che Harry non è completamente al freddo, nonostante la faida con la sua famiglia. . La coppia ha da tempo condiviso uno stretto legame cugino a seguito dell'amicizia delle loro madri. Diana, principessa del Galles e Sara, duchessa di York erano buone amiche, anche se in seguito si sono litigate. Nonostante ciò, Harry ed Eugenie rimasero un'unità forte, una volta visti ridacchiare e sussurrare come membri della coorte di dispettosi bambini reali. In seguito si sono legati all'amore condiviso per la scena delle feste londinesi. Spesso immaginati mentre uscivano dai club a tarda notte. Sebbene fossero sempre su strade diverse, con Eugenie destinata a lavorare per guadagnarsi da vivere e Harry intendeva prendere il suo posto come reale lavoratore come avevano fatto generazioni prima di lui, da allora tutto è cambiato. Omid Scobie e Caroline Duran, autori della biografia dei Sussex Finding Freedom, hanno osservato, tra tutti i nipoti della regina. Harry ed Eugenie hanno una delle connessioni più naturali, come Harry, Eugenie è leale, onesta e molto divertente. Non solo si fidava di lei in modo implicito, ma gli amici dicevano che dà ottimi consigli ed è sempre stata oltre saggi per i suoi anni. Eugenie ha presentato Harry alla sua ex ragazza, Cressida Bonas, e il suo sostegno nell'accogliere Meghan nella famiglia è stato ampiamente considerato inestimabile in una struttura reale altrimenti gradicata.